Niente lui, non riesco, mi viene veramente alla vomitare, è terribile Ciao a tutti, io e lui, e lei è Sofì, e benvenuti in un nuovo daily vlog Una nuova avventura, un nuovo video al giorno per raccontare la nostra folle vita E oggi siamo ancora a Roma, oh yeah E con noi oggi c'è una sorpresa, perché guardate qui chi c'è? Meraviglio Gigi, ciao Gigi Dov'è il mio regalo? Qual è il regalo? Io non mi parlo finché il mio regalo non arriva Lui, lui ha ragione però, gli avevamo promesso il regalo, l'abbiamo dimenticato Ma con regalo intende un altro scherzo? No, vuole un regalo come ricompensa per tutto quello che ha dovuto subire Sto ascoltando Come? Mi sento No, 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 non sentire Ieri è stata una giornata assurda, abbiamo fatto qualcosa davvero di pazzo Abbiamo distrutto una vasca da bagno Super lussuosa Vi rendete conto cosa abbiamo combinato? Abbiamo? Lui sei stato tu, tu hai fatto tutto Sì, ma tu sei stata la mia complice Abbiamo rubato le chiavi della stanza Hai rubato? Eh, l'hai rubato io, sì, ma tu mi hai aiutato No, io stavo chiedendo un asciugacapelli E tu hai approfittato del fatto che la signora si allontanasse Vabbè, ma fino a prova contraria chi l'ha fatto il bagno? Ok, vabbè, c'entro anch'io Il vlog finiva con noi che abbiamo distrutto tutto, abbiamo sporcato E ieri nini nini Ma non sapete cosa è successo dopo In realtà è finita bene Non è arrivata la polizia, non è arrivato nessuno Perché se vi ricordate bene La figlia del proprietario ci conosce E quindi anche il proprietario ci conosce E alla fine ha detto E vabbè, dai, vi siete divertiti Ci siamo divertiti tutti Sono io di Uber, lasciamolo stare E quindi tutto bene ciò che finisce bene Oggi avremmo trascorso volentieri un'altra giornata In quella vasca meravigliosa Con tante bombe da bagno Con tanta schiuma Io, 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 nini, nini Però adesso siamo in macchina Perché stiamo andando a Napoli A Napoli e devo ritrovare Zio Antunello Zio, tu, bello Quanto sarà epico il vlog di oggi Non solo ci sono i miei contro te Non solo c'è Mena Zergie Mena Zergie Ma ci sarà anche appunto Zio Antunello Quindi Mena Zergie Zio Antunello con lo stesso video E forse saranno In barca Ti rendete conto Forse andremo in barca tutti insieme Vabbè ma fermi tutti Forse il manager Gigi non conosce Zio Antunello Oggi ci sarà per la prima volta il loro incontro Come? Gigi ma tu conosci Zio Antunello? Vi siete mai visti nei nostri vlog? Non vedo il mio regalo Basta, basta con questo regalo Ripeto non parlo finché non arriva il mio regalo Va bene Ecco qua il tuo regalo Vieni Grazie mille Ma sono originali? Ho comprato in una pancana Sto scherzando Sono originali Le cose si compriano solamente originali Anche le nostre maglie Le maglie delle trovate Meccontrote.it Slash shop E ho il link in descrizione L'unico posto dove lo potete prendere Vediamo Guarda come sto Wuuu Sexy gg Farò proprio schifo Nooo Non per te Nel senso che lui ha dei gusti terribili Spite ce l'ha scelti lui Tranquillo Poi ti farò un regalo io bellissimo Poi sceglierò tutto E quindi Zio Antunello lo conosci? Ci siamo sempre solo sentiti al telefono Wuuu Quindi sarà come Kirerei Oggi allora il loro grande giorno Il nostro grande giorno Oh c'è davvero una giornata epica Saluto delle trovate Ye 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 Ne 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 Lui vai Ci siamo Ci siamo Tren cane Bellissimo Siamo sul treno Stavolta abbiamo fatto tutte cose con più calma Non come l'altra volta Corse su corse Quasi quasi stavo cadendo Vi ricordate insomma Disastro Comunque siamo qui Che stiamo andando a Napoli Manca davvero pochissimo E arriviamo E arriviamo Non vedo Io sono col computer Perché sto cercando di caricare il video di oggi Cosa hai fatto Non so cosa hai combinato Sono la persona più triste del mondo Ho comprato questo coso che è tipo uno spray per il viso Wow E' aperta E' quasi la metà se ne è andata All'interno del mio zainetto Quello che ti ho regalato io Che cosa hai un sacco di soldi Esatto il quale è tutto macchiato E non so se andrà via In più Si è bagnata anche la macchina di Dandunello Dandunello? Ma sai cosa ha combinato Sabine? Però si toglie Adesso la sto sistemando E mi sa che la tua macchina rimarrebbe sempre macchiata E' un profumo di cocco Diggi paghi tu no? Io sto aspettando ancora il mio regalo Basta con questo regalo Allora il regalo di oggi è che vi porto tutto in barca Va bene? Che non vedo non credo E' dry e credere dry Ok vai E' credere dry Siamo arrivati Qui c'è la barca E' bellissima Wow Però io come al solito So sempre l'ansia Perché devo attraversare questo punto cello Per salire Aiuto Aiuto Non voglio cadere Allora vado Vai Aspettate che arrivo io Prendete le mie scarpe Le prendo io Te le prendo Uno Due No Devo rischiare la vita Aspetta Ok Ci abbiamo fatto Siamo dentro Ci siamo Si parte Così Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Questo ha fatto male, vero? Dasta, dove vai? Smettila! Non hai più una certa età! Immobile! Fermatela! Fermatela! Secondo me, Antonello non torna a casa oggi! È il momento di Gigi! Uno, due, tre! È andato! È il mio grande momento! Pronti per il tuffo? Lui ma che fai? Lui cosa stai facendo? Voglio fare una pazzina! Lui no, 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 no! Non si può! Lui, no, no! Si che si può! Si può tutto! L'importante è volere! Bomba mia! E' pazzo! Anderello che stai facendo? Non lo fare! Non lo fare! Ti potresti rompere tutto! Un megatrotone in acqua! Voglio fare una cosa super pazza! Aspetta! Il capitano non lo deve vedere! Proviamo a saltare dal tetto della nave! Non so se si può fare! Cavolo! È altissimo! Cavolo! Che sta facendo? Comunque il capitano si è arrabbiato! Buongiorno capitano! Riencomi a bordo! Come va? Wow! Ma quanto è bello! E tu perché non hai fatto ancora il bagno? Dai andiamo! Tuffati da lì sopra! No Lui tu non hai capito niente ma io sto malissimo! Che hai? Sto soffrendo in silenzio! Eh? Ma che stai dicendo? Lui veramente io mi sento malissimo! Non ce la faccio più! Come? Mi è da vomitare! Mi è da vomitare di mangiare così tanto! Ma sei seria? Stai scherzando? Si lui davvero! Mi sto scherzando! A quest'ora mi sarei fatto un sacco di bagni! Ma niente lui non riesco! Mi viene veramente da vomitare! Terribile! No no! Ma! So! Per favore basta! Basta! Cavolo! Non so che fare! Ma! Ma! Ma che ti sei messo tu? Sei il capitano! Ma cosa? Stavo dicendo che! Sofì sta davvero male! Mi dispiace tantissimo! Non posso fare qualcosa! Stai zitto! Ma stai zitto! Sto male! C'ho la nausea! Tu continui a parlare! Bisogna fare silenzio quando uno ha la nausea! Capitano! Diga! Abbiamo una carciofina in barca! Che sta male! Ci penso io! Guarda qui! Te passerà tutto subito! Grazie! In 10 minuti! Ma lei è il capitano! È lui il capitano! In effetti c'è stato un errore! Ma adesso sta a guardare il cappello! Figura! Sofì! Basta! Basta! Ho una sorpresa per te! Voglio un attimo di tranquillità! Mi devo rilassare! Dai zitto! Sì! E io qui avevo la pellola per il matrimare! E non te la do più allora! Cosa hai? La pellola per il matrimare! Tutte le prese! Me le ho dato il capitano! Il capitano! Il capitano! Sì vabbè adesso il capitano è anche il farmacista! Eh sì! Guarda il cappello! Ah ok! Lui capitano e lui farmacista! Sono il farmacista capitano! Ah ok! Vediamo! Tieni! Anche se non te ne meriti perché ti comporti malissimo com'è! Io ti voglio solamente aiutare! Io ti voglio bene! Grazie Luisi! Giovo un po' meglio! Grazie! Sì! Ti adoro che c'è fine! Vai via! Io con questa ciunga me sto un po' meglio! Il nostro lui guardatelo! Si sta divertendo tantissimo! È proprio nel suo mondo! Guardate! Si sta rilassando! Con la ciambella! Comunque per me quella di oggi più che un'avventura è stata un po' una disavventura! Non so se lo sapete ma io non amo andare in barca perché poi mi sento sempre così! Soffro un po' il mal di mare! Luì! Sei vivo? Si! Sto cercando di risalire nella ciambella! Comunque come dicevamo la avventura piccola disavventura di oggi si conclude qua! Iscrivetevi al canale per entrare a far parte anche voi del team Trote! Cliccate il video che vi sa per comparire che sarebbe l'avventura di ieri! Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura! Ciao! Lui saluta! Ciao! 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 Ciao!